Vediamo ora elencate le principali infrazioni con palla. Infrazione di palleggio. Non è ammesso palleggiare con due mani contemporaneamente. Infrazione di passi. Non è ammesso spostarsi con la palla in mano per più di due appoggi. Infrazione di doppio palleggio. Una volta interrotto il palleggio, non è possibile riprenderlo. Infrazione di pugno. Il giocatore non può colpire la palla volontariamente con il pugno. Infrazione di piede. Il giocatore non può colpire la palla volontariamente con il piede.